Per anni hanno sfruttato illecitamente la legge 104 sui permessi per assistere familiari disabili, ma che in realtà venivano utilizzati come giorni di ferie aggiuntive a quelle ordinarie, per recarsi in vacanza al mare o utilizzati per diverse attività ludiche di natura privata. Due dipendenti della Camera di Commercio di Vicenza, mediante artifici e raggiri, avrebbero prodotto all'amministrazione di appartenenza false dichiarazioni. Sono stati scoperti dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Vicenza, dopo una complessa e articolata indagine che si è conclusa con il rinvio a giudizio dei due dipendenti infedeli. Avrebbero truffato l'Inps per diverse migliaia di euro.